L'avanzamento delle conoscenze nel mondo contemporaneo al centro del IV Convegno Nazionale della Società Scientifica Italiana Sociologia, Cultura e Comunicazione, presieduta dal professor Guido Gili. La Comunità Italiana dei Sociologi della Cultura e della Comunicazione si è riunita a Napoli all'Università Federico II per discutere sulla natura e sulla portata delle radicali trasformazioni in atto nell'ambito dei processi culturali e comunicativi, alla luce delle recenti crisi di impatto globale degli ultimi anni, endemiche, ambientali e pandemiche. Ma sentiamo Alberto Marinelli dell'Università La Sapienza di Roma. La tavola rotonda Trasformazione Saperi Università Italiana pone un problema che in questo momento ci accalora tutti quanti perché siamo in una fase di grandi decisioni che sta prendendo il Governo, che sta prendendo il Parlamento, ma che in qualche modo ci coinvolgono perché si parla sia di riarticolazione dei saperi, sia di gruppi disciplinari, un tema a cui ovviamente l'Università è molto sensibile, ma questo ci dà modo di affrontare un più ampio problema di ripensamento in qualche modo di tutto il nostro modo di lavorare, di fare ricerca, di essere presenti in maniera incisiva, soprattutto in una fase in cui le condizioni sociali e economiche non solo dell'Italia, ma dell'Europa e dell'insieme dei paesi del mondo destano una serie di grandi preoccupazioni.